Chi andava a fare la spesa, chi a passeggiare, chi addirittura a giocare ai videopokere, per assentarsi dal servizio avevano messo in piedi un fantasioso sistema di timbratura, affidando il proprio cartellino a colleghi accondiscendenti e compiacenti. I soliti furbetti italiani, potremmo dire. Insomma, in quattro mesi, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, grazie a un sistema nascosto di videosorveglianza e pedinamenti vari, i militari del Nucleo Operativo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno documentato oltre 2.000 episodi di assenteismo, 1.800 ore di assenze e un danno all'erario pari a 20.000 euro. Sono 57 gli indagati all'Aspe e all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, coinvolti anche due dirigenti. A 15 di queste mani lunghe del beige, le fiamme gialle hanno notificato ordinanze di interdizione dal servizio dai tre mesi a un anno. Per il GIP si sarebbe trattato di un sistema collettivo illecito dove tutti erano complici. I reati contestati, nell'ambito dell'operazione Cartellino Rosso, sono truffa, danno di enti pubblico e attestazione fraudolenta della presenza in servizio. Escamotage questi talmente surreali e pazzeschi, al punto che non solo un dipendente beggiava persino 5 cartellini al giorno, per conto di altri colleghi, ma addirittura un impiegato era arrivato al punto di aprire un ombrello per evitare di essere ripreso dalle telecamere. In questo momento di coronavirus, ha detto il comandante provinciale delle guardie di finanza di Catanzaro Dario Solombrino, l'attenzione alle spese pubbliche e sanitarie in particolare è altissima.